Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Dipe.io Oggi andremo a vedere la challenge del triple shot ragazzi Dovrò arrivare primo con il triple shot Come mi avete chiesto da un po' di giorni Ho sbagliato, ho portato il triplet, mi scuso di questo ragazzi Quindi cerchiamo di arrivare a tantissimi pollicioni Supportatemi sotto questo video ragazzi, fatemi vedere i vostri like E se non potete mettere like e se vi va Nei commenti mettete hashtag triple shot ragazzi Fatemi vedere uno spam infinito di hashtag triple shot ok? Quindi andiamo in gioco, andiamo a cercare di arrivare i primi con questo triple shot Ok ragazzi, parto senza potenziamenti perché giustamente devo riuscire a arrivarci Quindi non è giusto partire con già 21 punti sopra E quindi cercherò di salire, vediamo se ce la facciamo Senza intoppi e senza problemi siamo arrivati alla seconda evoluzione Quindi per riuscire ad arrivare al triple shot dovrò fare prima il twin ragazzi Quindi andiamo di twin cattivo va Ok ragazzi, sono riuscito ad arrivare al prossimo upgrade Ho fatto una kill senza vederlo Triple shot ragazzi, ok abbiamo maxato quasi tutto Anzi abbiamo maxato tutto qua Io direi di partire di altre regioni di cattiveria Così recchiamo quando ci allontaniamo Guardate che figata, mi spingo via Oh guardate questo, guardate questo Lo riuscirò a prendere, che dite? C'ho una mira scarsa oggi, mamma mia Oh guardate Dawin, Dawin MG Dawin, no il primo, il primo, il primo, il primo, il primo ci sta venendo addosso Porca miseria che ci ha combinato ragazzi Guardate con quanta vita si è salvato Non ci credo, rientramo in gioco Gli dobbiamo spawn al sedere a questo Ok ragazzi, sono riuscito già a ritornare al triple shot Quindi andiamo di cattiveria e cerchiamo di recuperare 344.000 punti Ragazzi, sai che oggi la challenge non arriveremo mai primi Perché quello è un maledetto booster con tutti quei punti E quando lo buttamo giù? Ragazzi, guardate questo Oh mio dio, piglialo, piglialo No, mamma mia, quanto scappano i triplet L'ho ucciso? L'ho ucciso, infatti sono arrivato immediatamente a livello 45 Niente triplet e niente pentashot Mi dispiace, devo rimanere triple shot Eccolo, eccolo il primo Eccolo, guarda il maledetto È troppo forte, è troppo grosso E quando lo buttiamo giù, raga Ci servirebbe una mano da qualcuno Senza che ci uccida a noi magari E va a attaccare a lui, sarebbe meglio Ok Oh, oh, un booster, un booster, un booster, un booster davanti a noi Ci sta massacrando Oh mio dio, siamo morti, raga Siamo morti Ok, ragazzi, sono riuscito a tornare al triple shot di nuovo E stavolta ha cambiato idea Proviamo a farlo tankoso, aggressive Quindi andiamo di body slam, body damage Vediamo un po' che riusciamo a combinare così Raga, guardate questo Ron No, ci ferma, ci ferma il maledetto Oh, boom Shot and out, un ton Ok, moment speed, vai, vai Ci bustiamo la velocità che è meglio Oh, sbam Freghiamo le kill alla gente Andiamo a fregare le kill Uno, uno E dai, fatti avvicinare Guardalo, guardalo che non lo riesco a colpire Figlialo, figlialo Oh, 2005 punti Davvero più complicati che così Non mi sono mai capitati Eccolo Eccolo che l'ho toccato L'ho toccato, l'ho toccato, l'ho toccato Vienici Guardalo come scappa E dai Ok, l'ho preso Oh, niente Morice Oh, era ora E che diamine Livello 38 Oh, mi faccio al leader Ho shuttato il leader Sì, santa miseria Ho levato un 400.000 dal top classifica Era meglio farlo così Che farlo aggressive A me sa, sta classe Perché non fa tanti danni dei colpi Però almeno de culo Con un po' di spinta C'è riuscito E buttiamo giù il primo E buttiamo giù il primo E mo' ammazziamo pure super boss Perché a noi ci piace ammazzare la gente No, 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 no Pure quello è come me È tancoso, è tancoso Me do Olè, boom No, mi ha shuttato Guarda di quanta vita gli è rimasta Non ci credo Che cavolo di culo Oh, raga, raga Quello de prima E il cicciottone de prima Oh, stavolta ti ammazzo però se te pio, eh Stavolta ti ammazzo, te lo dico, eh Stavolta mi frega niente Se tiro una pigna sul naso Che te faccio nero Se te riavvicini E prima di trasformarmi in triple Eccolo, eccolo L'ho incontrato L'ho rincontrato Dai, andiamolo a prendere C'ha meno di altre gente di me Maledetto, eh Ti ha fatto più danni Da un certo punto di vista, mi sa Eccolo, eccolo, eccolo Che lo fermiamo Guardatelo Che ci prova Guardate, sta scappando per rigenerare vita Guardate la merdina Guarda, guarda, guarda Quanto sei veloce Oh, no, è ritornato full È ritornato full No, Damose Damose de corsa Oh, guardate David E David Che poi si chiama Davo Ho detto il nome sbagliato Ma ha dato il triple shot immediatamente Siamo di nuovo livello 32 Oh, Damose Damose un attimino Così abbiamo il tempo di scegliere cosa mettere Mettiamo full movement speed per adesso Ok, guardate come corriamo GG Ecco il leader, ecco il leader Oh mio dio, pigalo Ho shottato il leader Terzo con una botta secca Oggi vado a shottare il leader È una cosa fantastica Perfetto Dai, dobbiamo solo tanto arrivare prima Ho abbassato il punteggio dei tutti Così Era ora Ragazzi, là c'è un bellissimo triple twin Che mi attira tanto Però rischio di morirci male Vediamo un po' Vediamo un po' che riusciamo a fare Avvicina lì Avvicina di noi Un co... No, 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 no Fa danni body damage pure lui Cioè, è stranissima sta cosa Si è fatto sia body damage Che danno da colpo No, dai Mi ha ammazzato l'XP Maledetto Ok, ragazzi Sono riuscito di nuovo a ritornare a livello 30 Vediamo un po' Adesso l'ho rifatto di nuovo aggressive Perché ho visto che i livelli comunque si sono abbassati E probabilmente riuscirò a uccidere qualcuno Tipo quel bel zappi tv Che mi dà altri punti per crescere E altre regione per me Lì c'è Master of Uh, che carino Master of Tarocco che more È bellissima questa cosa È veramente bella Oddio, stavo morendo Ho ammazzato MG Master of Però mi ammazza questo Mi sa No, i triangolini no Porca miseria Che brutta cosa Sto per morire di triangolini Alte regione a manetta Dai No, 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 no 1, 1, 1, 1 Ok, perfetto, perfetto Così non ho distolto l'attenzione Dall'attacco dei triangolini Mi do allontano un attimo E devo recuperare vita Eccolo il leader Eccolo il leader Il leader è un triple twin tank Ragazzi È un problema Perché si è fatto i colpi Tanti e ravvicinati Oddio, quanti triangolini What the fuck Chi è che li accumula così tanto Ok, ok Ci sta provando ancora il maledetto Non riesce a prenderci Per nostra fortuna E devo smetterla pure di sparare Perché se no non mi riesco più a muove Allora cerchiamo di fare un giro largo E di andare a rompere Il sedere a siglia Perché siamo secondi Se non ci riusciamo Noi speriamo che qualcuno Mi dia una mano Così lo buttiamo giù Tuttiamo un po' Ok, qualche colpo su Mi fa danni ragazzi Però se riusciamo a penetrare La sua difesa Di mille milioni di pallini Probabilmente riusciamo A tirargli qualche colpo Mi servirebbe una mano Da qualcuno Sinceramente Così lo buttiamo giù magari Lo prendiamo in diagonale No, no Non venire addosso a me Vai addosso Vai addosso a lui cazzarola Facci Addosso al maledetto leader C'hai un leader davanti Butta giù il leader Butta giù sto maledetto leader Attaccate il leader Cavolo Vai tutti sul leader Tutti sul leader Pure io Pure io Dai, dai che sta in mezzo ai fuochi No, si sono lontana di tutti Tanna lascia perdere il leader È morto il leader Sono riuscito a ammazzare il leader E arrivo primo E arrivo primo Con il lavoro di squadra Si arriva prima Visto? Grazie ragazzi Di avermi dato appoggio E di aver distrutto il leader Oh, guardate questo Mamma mia Mamma mia Mori c'è Ok, questo c'è more Adesso dice uno stalker Che mi vuole uccidere a tutti i costi No Ma ho un ha shootato Porca miseria Va bene ragazzi Questo era il triple shot Che mi avete chiesto voi ragazzi Qua sotto nei commenti Mettete hashtag Triple shot ragazzi Lasciate mi piace Condividete il video Iscrivetevi al canale Se sei nuove E ci vediamo alla prossima puntata Di type.io E ci vediamo alla prossima puntata E ci vediamo alla prossima puntata